carissimi pace del signore buona giornata buona domenica a tutti quanti voi leggiamo nel libro della genesi capitolo 38 i primi 30 versi un passo particolare quello che leggiamo stamattina che ci racconta scusate in modo crudo la realtà del peccato nella vita di giuda uno dei figli di giacobbe che tra l'altro l'antenato del re davide del nostro signore gesù cristo avvenne qualcosa di particolare avvenne che giuda si separò dei suoi fratelli e prese per moglie una donna cananea dalla quale ebbe tre figli er onan e scena quando er fu grande il padre gli diede per moglie tamar ma er ben presto morì e allora per ragioni di consanguinità giuda diede a tamar come marito il suo secondo genito vale a dire onan ma anche onan morirà e allora giuda farà una promessa tamar quando il mio terzo genito sarà cresciuto vada a dire scena questi diventerà tuo marito ma la promessa di giuda non era una promessa sincera perché lui temeva che così come erano morti in modo prematuro gli altri suoi due figli anche questo terzo potesse morire e allora i giorni passarono ma la promessa di giuda non venne mantenuta e così tamar decise di dar sfogo a tutta la sua rabbia decise di mettere in atto una sorta di rivincita e si presentò al suocero come una meretrice attirò verso di lei i suoi desideri e si unì a giuda e da quel triste rapporto nacquero due gemelli ai quali fu posto il nome di perez e zerac e perez benché sia nato da una unione così triste è stato il primo genito di giuda e da lui discendono il re davide e di conseguenza il nostro signore gesù cristo sicuramente molti si vergognerebbero di annoverare tra i propri antenati persone che hanno queste tristi esperienze alle spalle ma davide non si vergognò e non si vergognò neanche il nostro signore gesù cristo e questo ci dimostra innanzitutto che la bibbia non è stata scritta per esaltare la stirpe di davide perché altrimenti questi fatti sarebbero stati nascosti e soprattutto ci dimostra come il signore non fa ricadere le colpe dei padri sui figli e come il signore sa rialzare anche dal peccato più obrobrioso che ci possa essere e questo perché cristo gesù che discende da questa lunga catena di peccati perché anche davide non solo lui anche i discendenti di questi si macchieranno di gravi colpe il signore gesù dicevamo verrà su questa terra e vivrà una vita senza peccato nonostante abbia alle spalle questa triste serie di ascendenti ebbene fratelli noi non sempre abbiamo delle dinastie di cui vantarci non sempre veniamo da famiglie nobili anzi come dice l'apostolo paolo in prima corinzi capitolo 1 guardate la vostra vocazione in mezzo a voi non ci sono sono notabili di questa terra uomini che sono ammirati per le loro qualità ma quello che importa non è da chi discendiamo quello che importa è che noi permettiamo al signore di riscattare la nostra vita mediante il suo sacrificio in modo da poter essere da lui acquistati e diventare parte della famiglia di dio il nostro passato quando ci arrendiamo al signore non conta più perché il sangue di gesù lava purifica tutti i nostri peccati e quello che è importante non è se discendiamo da questo da quell'altro quello che è importante è che noi apparteniamo al signore gesù cristo perché quando questo avviene allora la benedizione di dio riposa su di noi ed è particolare il fatto che di giacobbe il quale naturalmente era a conoscenza di tutto questo in modo profetico quando prima di morire raccolse i suoi figli disse al riguardo di giuda delle parole molto belle giuda disse genesi 49 dal verso 8 te loderanno i tuoi fratelli la tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici i figli di tuo padre si inchineranno davanti a te giude è un giovane leone tu risali dalla preda figlio mio egli si china si accovaccia come un leone come una leonessa chi lo farà alzare lo scetto non sarà rimosso da giuda già mai ne sarà allontanato il bastone del comando dei suoi piedi finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli egli lega il suo asinello alla vita e il puletro della sua asina alla vita migliore leva la sua veste col vino e il suo mantello col sangue dell'uva egli agli occhi rossi dal vino e i denti bianchi dal latte è una bellissima benedizione profetica che sarebbe interessante approfondire ma non c'è lo spazio ma quello su cui mi voglio soffermare ancora una volta e che questa benedizione ricade su qualcuno di cui forse altri si vergognerebbero ma il signore il signore non si vergogna anzi per mezzo di lui fa sì che gesù cristo venga alla vita e possa essere il salvatore di questo mondo cari nella grazia grande l'opera che il signore vuole compiere nella vita di ogni uomo e di ogni donna il peggiore dei peccatori può diventare un potente predicatore dell'evangelo l'uomo meno apprezzato su questa terra può essere l'uomo che nel cielo riceverà il premio più grande permettiamo a dio di servirsi di ognuno di noi mettiamo da parte tutte le nostre fragilità permettiamo alla grazia di dio di trasformarci ogni giorno e non guardiamo a quello che noi siamo ma guardiamo a quello che il signore può fare per mezzo di ognuno di noi il signore si è sempre servito di persone semplici di persone delle volte fragili ma che hanno sempre saputo pentirsi dei loro peccati e che hanno saputo riconoscere il bisogno di essere perdonati da dio e di essere riempiti della sua forza e della sua potenza facciamolo anche noi riconosciamo il bisogno di salvezza riconosciamo il bisogno di ricevere l'unzione dello spirito santo non andiamo avanti con le nostre forze ma preghiamo dio con tutto il cuore riempimi signore riempimi di quella potenza che tu hai promesso fa che la pentecoste possa ardere nel mio cuore quello che i discepoli fecero lo fecero non perché erano uomini straordinari ma perché erano uomini arresi nelle mani di dio possa il signore far sì che avvenga lo stesso ancora per ognuno di noi che la sua grazia e la sua pace e il suo amore possano regnare sulla nostra vita dio ci benedica in questo giorno fratelli pace del signore a tutti quanti voi